C'è Elena? Si chiama Elena e ci dice che è piacere di conoscerci. Appena riabbracciato, proprio stamani a sorpresa in comune a Pescara, la nipote è scappata dalle bombe della sua città in Ucraina, dove studiava giornalismo. Il consigliere comunale UDC di Pescara, Massimiliano Pignoli, con la Presidente dell'Associazione Ucraina, nessuno escluso Caterina, ha promosso un'iniziativa a sostegno delle popolazioni del paese in guerra, chiamando a raccolta la cittadinanza di Pescara affinché porti in comune generi di prima necessità. Pignoli si sta occupando anche dei primi profughi, sverigando tutte le pratiche burocratiche come è accaduto nel caso di questa ragazza. Ovviamente adesso, oltre all'accoglienza, parte anche la seconda fase, cioè quella della raccolta di cibo. Quindi approfitto della vostra emittente, che è molto seguita, per diffondere quello che serve e dove portarli a che ora. A noi serve assolutamente cibo per bambini a lunga conservazione, latte in polvere, pasta, olio di olive, olio di seme e di girasole, riso, caffè, taimbustine, fette biscottate, nutella e marmellata, merendine e biscotti, tonno in scatola, formaggio sottovuoto, zucchero, sale, farina. Dove è possibile portare questi cibi? Al gruppo consigliare dell'UDC, che è aperto da lunedì al venerdì. Massimo è una persona che è molto disponibile e lui ci ha dato la prima mano quando io mi sono rivolta a lui per aiutarmi a organizzare la manifestazione, poi dopo adesso con la raccolta di aiuto, con le sistemazioni delle persone. Chi è lasciato lì in Ucraina? Mi ha lasciato mia figlia e i due nipoti. Sempre stamani Sara Marcozzi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha annunciato una raccolta di genere di prima necessità con un turnover giornaliero grazie a cittadini ucraini che vivono in Italia. È possibile già da oggi portare questi beni? L'appello anche in questo caso è a tutta la cittadinanza. Dunque, noi abbiamo raccolto la richiesta di aiuto che proprio alcuni cittadini ucraini ci hanno rivolto, mi hanno rivolto, e cioè quella di trovare innanzitutto un luogo dove raccogliere beni di prima necessità dai medicinali, insomma, penso ai pannolini per i bambini, gli assorbenti da donna, ma adesso la lista precisa la dobbiamo ancora stilare. E dunque ci siamo sentiti ovviamente coinvolti. Ci tengo a ringraziare ancora una volta, come l'ho fatto nei giorni precedenti, sia il Presidente del Consiglio Sospiri, che mi ha immediatamente dato la disponibilità di questi locali, appunto, e sta partendo una macchina, diciamo, che coinvolge tutto il Consiglio regionale. Si potranno venire a depositare, diciamo, qui in questa sede, in Piazza Unione, al piano terra del Consiglio regionale, credo tutti i giorni dalle 9 alle 21 e la domenica, credo, il sabato, dalle 9 alle 13. Da quando? Da oggi. Veronica, sei da 4 anni qui, cosa fai in Italia? Lavoro, aiuto mia madre e poi ho un piccolo figlio che va a scuola. Chi hai lasciato in Ucraina? Mio fratello con moglie e con due bambini, 10 anni e 5 mesi. Loro neanche non possono venire qui, perché non hanno passaporto per bambina. sto preoccupata.